I numeri dopo 6 giornate del campionato di eccellenza non tornano. Troppo pochi 4 punti per un canosa costruito la scorsa estate con ambizione e voglia di stare in alto in classifica. La vittoria a Casalinga ha l'esordio contro il Foggia in Cedit datata 25 agosto e rimasta isolata. Un pari, lo 0-0 interno con il Brilla Campi e ben 4 sconfitte poi contro Galatina, Barletta, Biceglia e Polimia. 4 punti dunque pochi, troppo pochi per quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Ancora raggiungibili per carità a patto però che ci sia una netta inversione di tendenza. Il calendario in questa fase iniziale non ha aiutato la squadra del presidente Alessandro Di Nonno, è vero, ma nel complesso era lecito attendersi parecchio di più dal collettivo guidato da Gigi Di Simone. I rinforzi arrivati dal mercato intanto potrebbero cambiare le carte in tavola. A partire dal match casalingo di domenica contro una matricola atletica che ha avuto un impatto notevole con la nuova dimensione agonistica con 10 punti collezionati. Fischio d'inizio al San Sabino previsto alle ore 15.30. 5 i volti nuovi dei canosini, batteria dei portieri rinforzata con l'esperto Stefano Tarogli, ex Biceglie, sempre dal club nerazzurro stellato è arrivato il centrocampista offensivo Rocco Mangialardi, uno che in carriera ha sempre dimostrato di avere una buona confidenza con il gol. Di Simone punta molto sulla voglia di riscatto dell'esterno offensivo Antonio Petitti che ha le migliori intenzioni di tornare protagonista dopo un lungo stop per infortunio e poi inseriti in organico due centrocampisti di spessore, uno di grande esperienza come Giacomo Zappa Costa, l'altro ancora giovane, il classe 2000 Francesco Barrasso, reduce dall'esperienza di Molfetta. Hanno salutato il gruppo invece Castro e Pinto, pochi fronzoli, tanta sostanza. Non ne può fare almeno d'ora in avanti il Canossa per cambiare volto la propria classifica e trasferirsi nella parte sinistra. Il prossimo trittico di impegni in otto giorni non sarà decisivo ma potrebbe essere già determinante nell'operazione riscatto della squadra. Domenica in casa contro la trittico acquaviva, giovedì a Modugno contro il Bitonto nel turno infrasettimanale dell'ottava giornata e poi la sfida molto attesa di domenica 13 ottobre a San Sabino contro la corazzata Gallipoli. Il presidente Alessandro Di Nunno si aspetta che il suo Canossa torni a rialzare la testa.